no 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 hola chicas allora oggi sono qua con i due amici invisibili facciamo partire una nuova challenge che mi sono inventato al supermercato abbiamo trovato un cocco quindi abbiamo fatto perché non facciamo la challenge col cocco abbiamo chiamato la open my cocco challenge che consiste la open my cocco challenge in realtà non lo so perché abbiamo inventato adesso allora voi dovete riuscire cioè noi dobbiamo adesso riuscire ad aprire questo cocco con tre oggetti che abbiamo chiesto su twitter scelti a caso ci sono capitati un cucchiaio che penso che esistere a poco con materiale proprio una moneta cosa ci fai con una moneta e un peso è un peso non è tipo il vetro che se trago anche un punto giusto cosa fai stai la capocciata dai la capocciata non è così non si non più manco lo peso guarda oh 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 no 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 sei scemo oh 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 o oh 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 adesso mi tengo un po' di spingolato mi tengo un po' di spingolato perchè? non è un popocallo? è un popocallo è un popocallo senti quanto è buono il cocco ciao a cercare il cocco ho la blindfold challenge ho separato il bianco ho separato il bianco quello che sto cercando di fare è del cocco lavalo no che schifo lavalo perchè? è russato in mezzaterra uomo simia uomo simia natura vera uomo simia vera natura uomo simia vera natura uomo uomo vero simia natura vero uomo simia uomo vera siamo riusciti ad aprire il nostro cocco ora parte questa sfida che è l'open my cocco challenge hashtag open my cocco challenge ci sto quindi allora io nomino perchè questa questa challenge va a nomination io nomino per la open my cocco challenge allora brian sofia viscardi jaser malattia i crew kids i crew kids vabbè per nominare sceffo e like a for you voi sei voi sei e anzi e poi finale ebbè facciamo sei cazzo ci vede siamo diversi e per finale nomino chiunque guarda questo video a fare la open my cocco challenge quindi tu che stai guardando questo video anche se è un canale con pochi iscritti sti cavoli voi fate il video poi inviatemelo nei commenti oppure inviatemelo su facebook o su vari social network noi lo guarderemo e ci faremo due risate perchè voglio vedere come aprirete il vostro cocco inoltre regola numero uno della open my cocco challenge l'unica regola dovete usare tre oggetti o quattro appunto la testa che non è un oggetto scelti dal vostro pubblico cioè dai vostri iscritti quindi scrivete su sui social network cosa vorreste che usassi nel video open my cocco challenge per aprire un cocco usate oggetti più strani possibili e niente lasciate un like commentate e ciao al prossimo video i wanna see you run